Poi ringrazio la persona più importante che mi è stata vicina e che è mia moglie, ti amo tanto. Parole d'amore che portano alla firma di Fedez, il rapper Meneghino che martedì sera dal palco di Love Me, il grande evento di solidarietà organizzato in Duomo, ha voluto dedicare il suo personale grazie alla moglie che lo ha accompagnato nella battaglia contro il tumore al pancreas, una battaglia che si è risolta nel migliore dei modi e che il cantante ha voluto ricordare davanti ai suoi fan. Nel suo discorso, il cantante milanese ha ringraziato i medici che gli hanno salvato la vita, ed una dottoressa in particolare, ma anche la moglie Chiara Ferragni che gli è stata a fianco nei giorni più difficili, e lei, presente nel pubblico, è scoppiata a piangere. E Fedez davanti ai 20.000 fan che hanno affollato Piazza Duomo ha dedicato un pensiero anche a sua mamma. A me basta una cosa. Io oggi sono arrivato qui, ho visto mia madre nel backstage. Io e i miei genitori non siamo emotivi, ma l'abbraccio che mi ha dato mia madre vale tutto questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.